Giannarelli? No, allora uso un altro termine, perché sono allibito da intervento di Marras. Allora, se fosse vero quello che dice il consigliere Marras, non sarebbe stato scritto all'ordine del giorno le due comunicazioni che da tempo abbiamo concordato che sarebbero dovute svolgersi oggi. Una era stata chiesta è il rinvio, non il ritiro. Il rinvio è diverso dal ritiro. Il rinvio all'ordine del giorno di oggi. E' inaccettabile che non ci sia oggi il Presidente della Giunta, della Regione Toscana. Questo è inaccettabile. Che non ci sia mai qua col confronto, col Consiglio, per sminuire per l'ennesima volta il nostro lavoro. Questo è inaccettabile. E' inaccettabile anche la lettura che si dà delle cose. Allora noi, come Movimento 5 Stelle, abbiamo proposto atti al di fuori di quanto concordato dalla conferenza dei capigruppo, perché c'è urgenza di parlare di quelle cose. C'è urgenza di parlare della conferenza di servizi di Scarlino, territorio del Consigliere Marras. C'è urgenza di parlare dell'aeroporto, c'è urgenza di parlare della Darsena Europa. E le due risoluzioni erano collegate alla comunicazione del Presidente. Di cosa stiamo parlando? Lo prevede il regolamento che noi possiamo fare questi interventi collegati alla comunicazione del Presidente Rossi. Allora, non ci stiamo a questa neolingua del PD che non appartiene a quest'aula. Allora, non ci stiamo a questa. Allora, non ci stiamo a questa.